Sindaco Costantini, venerdì scorso era arrivata la conferma con l'ordinanza di Marco Marsiglio con ancora Giulia Nova in zona rossa, ma in questa settimana, pare, i numeri sono positivi per la città giuliese, quindi c'è possibilità di uscire da questa zona rossa prima di venerdì? Spero di sì, ieri abbiamo fatto una riunione in ASL, abbiamo constatato che l'esame epimediologico della nostra città è assolutamente ottimo, voi provate a pensare, ieri abbiamo avuto solamente un positivo su una popolazione di 24.000 abitanti, c'è una relazione che l'ASL in mattinata ha inviato all'assessore Veri che dovrà convocare nel minor tempo possibile un tavolo, il tavolo dell'unità di crisi, al fine di certificare questi dati e di permettere alla nostra città che ha avuto sempre numeri assolutamente congrui con quello che abbiamo sempre sostenuto, cioè che probabilmente era già una forzatura di per sé mandarle in zona rossa, perché abbiamo avuto solo un giorno, il famoso venerdì 16, dove il comune ha toccato 20 casi positivi e nel rapporto 250 positivi su 100.000 abitanti, che è quello che prevede il DPCM, comprendete bene che noi dovremmo avere il numero massimo di 60 positivi settimana e non è mai accaduto se non con 59 casi in una settimana, quindi comprendete bene che ci auguriamo di uscire da qui a qualche giorno. Con il collega di Martinsicuro, il sindaco Massimo Vagnoni, avevate sollecitato appunto il Regione Abruzzo ed ASL per capire un po' meglio questa situazione. Assolutamente sì, ma ieri con me sono venuti anche il sindaco di Castellalto e il sindaco di Torricella, perché bisogna fare un'analisi complessiva della situazione, non bisogna fermarsi ai singoli comuni, l'analisi complessiva della situazione è quella che io vi ho già spiegato, sul mio comune naturalmente c'è stata un po' più di attenzione, perché comprendete bene che la ASL ha più paura dei comuni più grandi, dove il rischio è maggiore e soprattutto quelli costieri, che hanno tantissime attività, però questo non può fermare in questa settimana un indotto che noi abbiamo calcolato in circa un milione di euro se dovessimo stare chiusi fino a lunedì 3.